Molto spesso mi capita che molti di voi mi scrivano dicendomi non so che cosa studiare, mi piacerebbe studiare un po' di tutto ma non so da dove partire, oppure ho poco tempo a disposizione perché lavoro tutto il giorno, quando arrivo a casa sì, magari suono due canzoni ma poi mi rompo le scatole perché non miglioro mai con la batteria, come faccio a gestire questo poco tempo che ho nel modo giusto? Oggi quindi vi darò 5 regole fondamentali da tenere sempre in considerazione per poter migliorare al massimo col nostro strumento. Queste 5 regole sono applicabili qualsiasi sia il tempo che avete a disposizione quindi se siete pronti, mando la sigla e poi partiamo con la prima regola Prima di cominciare con la prima regola vi ricordo che è attiva ancora per pochi giorni l'offerta Back to School di Gastube Drums quindi avete il 40% di sconto sul primo corso che acquistate, il link è in descrizione così potete cliccare e andare a vedere tutti quanti i corsi perché ovviamente il 40% di sconto è applicabile su qualsiasi corso voi scegliate e se avete qualsiasi domanda mi scrivete o nei commenti oppure mi mandate una mail alla mail che c'è qui sotto in descrizione comunque cliccate sul link qui sotto e così avete una panoramica di tutti i corsi se ancora non li conoscete siamo pronti per partire con la prima domanda ho detto la prima domanda ma in realtà è la prima regola vabbè andiamo regola numero uno studia con degli obiettivi chiari non entrare in sala prove o dove hai la batteria dicendo vabbè adesso suono un po' di questo poi suono un po' quest'altro poi suono un po' quest'altro poi magari mi studio un po' di tecnica no, deve avere degli obiettivi su quello che vuoi fare cioè vuoi imparare la coordinazione e il timing in un determinato momento concentrati lì capisci tutto quello che ti serve per poter migliorare la coordinazione e per poter migliorare il timing e rimani lì è importante prima di entrare in sala prove che cosa si vuole andare a fare se entriamo poi diciamo che bello questa cosa qua mi piace magari faccio questo oggi il giorno dopo arrivate con qualcos'altro quello non serve a niente quello serve a suonicchiare magari divertirsi e va bene divertimento è sempre alla base di tutto ma non progredirete come se aveste degli obiettivi chiari in testa da portare avanti con un percorso giornaliero che pian pianino vi porterà su questo la cosa di avere degli obiettivi è scadenzarsi una tabella di marcia diciamo per il proprio studio serve assolutamente per poter migliorare sul serio e non suonare a caso regola numero 2 la qualità vince sempre sulla quantità è una cosa che dico molto 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 spesso all'interno dei miei corsi e che cosa significa? significa che se voi prendete un esercizio, un groove ma qualsiasi cosa è importante che quell'esercizio venga fatto bene non che venga fatto veloce non che venga fatto ai 2000 all'ora quell'esercizio di tecnica perché vogliamo sentirci figli e cercare di arrivare subito all'obiettivo per arrivare all'obiettivo dobbiamo arrivarci bene quindi il modo migliore è mettersi lì e non aver paura di fare gli esercizi lenti e soprattutto appunto fare gli esercizi in modo qualitativo se facciamo un paradiddle chi se ne frega se ci mettiamo a impararlo così è perfetto impararlo così perché noi abbiamo la possibilità di vedere chiaramente che quel paradiddle sta venendo bene che i colpi sono tutti alla stessa dinamica gli accenti funzionano bene il suono è bello se noi andiamo a fare il paradiddle facciamo questa cosa qua non serve a niente serve solo probabilmente a prenderci delle tendiniti non la utilizzeremo mai con le band perché è inutilizzabile sta roba e avremo sprecato il nostro tempo quindi se siete di quelli che avete poco tempo e non sapete come utilizzarlo ecco non utilizzatelo così fate le cose lentamente e tra l'altro vi dico una cosa io ho avuto un anno in cui ho studiato il mio maestro uno dei miei maestri mi ha fatto studiare praticamente solo lentamente cioè mi diceva prendi il paradiddle perché siamo lì con questo esempio e fallo lento pensa ai movimenti fatti bene pensa al suono pensa a tutte le cose che ci sono da pensare quando si fa un rudimento ragazzi quell'anno è stato l'anno che io ho velocizzato di più la mia tecnica senza mai suonare veloce non so dirvi il perché ma probabilmente perché facendo movimenti ampi facendo movimenti lenti ma in questo modo sono andato a capire bene quali erano i movimenti qual era il suono che dovevo ottenere come dovevo spostarmi sul set e questo probabilmente ha fatto sì che la mia tecnica aumentasse e quindi anche la velocità regola numero 3 non cercare la perfezione ma cerca il progresso una delle cose che più mi scrivete nei commenti all'interno dei miei corsi perché nei miei corsi avete un contatto diretto con me quindi potete chiedermi qualsiasi cosa una delle cose che mi chiedete di più ad esempio sulla tecnica è allora ho fatto il paradiddle continuiamo a parlare del paradiddle che abbiamo usato come esempio ho fatto il paradiddle e sono arrivato a 120 bpm va bene secondo te posso andare avanti oppure devo continuare a farlo ancora finché non arrivo a 190 bpm allora attenzione a questa cosa è importante non cercare l'obiettivo finale subito nel senso non cercate la perfezione in questo senso il mio obiettivo è arrivare a 190 bpm con il paradiddle quindi lo faccio finché non arrivo a 190 bpm no è un progresso cioè pian pianino si va avanti con tutto quello che andiamo a studiare quindi se voi state studiando la tecnica fate il paradiddle fatelo in modo qualitativo e pian pianino vedrete che arriverete su di velocità ma questo non significa che dovete farlo 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 e rifarlo finché arriverete a 190 bpm no continuate a studiare il vostro paradiddle ma continuate anche ad andare avanti con il vostro percorso perché il vostro percorso se state studiando la tecnica avrà degli esercizi di tecnica quindi mentre voi studiate il vostro paradiddle e andate avanti con i vostri esercizi di tecnica migliorerete sempre di più le vostre mani la vostra velocità la vostra tecnica e quindi quel paradiddle che prima riuscivate a fare a 120 bpm pian pianino crescerà senza che voi ve ne accorgiate ma a un certo punto magari dopo aver studiato la tecnica in altri modi dopo aver magari imparato tecniche nuove tipo la push and pull la muller eccetera riproverete a fare quel paradiddle e magari da 120 bpm che era proprio la soglia massima in cui riuscivate ad arrivare in quel momento passerete direttamente magari a 140 senza averlo studiato il paradiddle ma perché? perché non è l'esercizio singolo è il percorso che state facendo che vi porta a migliorare la tecnica e tutto quello che ne concerne della tecnica quindi appunto non focalizzatevi troppo su un dettaglio cercate di fare bene gli esercizi ma poi cercate di portare avanti il vostro percorso in base agli step che vi siete dati regola numero 4 suona sul metronomo e sulle canzoni ma in che modo? di solito la cosa che facciamo tutti è pensare allora quando suono col metronomo è perché sto facendo degli esercizi quando suono le canzoni allora è perché sto studiando una canzone mi sono studiato il groove di una canzone e quindi lo suono in realtà secondo il mio parere non è completamente così questa è una cosa che ho scoperto fin troppo tardi ma perché non suonare un esercizio su una canzone? che cosa facciamo nel momento in cui andiamo a suonare un esercizio? riprendiamo il nostro paradidol io riprendo le bacchette forse non avevo queste prima ma vabbè ritorniamo col nostro paradidol allora paradidol noi ce lo facciamo anche a questa velocità lenta ovviamente è un esempio che può essere applicato a tutto a un certo punto ci mettiamo a spostare i nostri accenti solito con timpano con accento di mano destra sul timpano accento di mano sinistra sul tom allora io mi sono già rotto le scatole di fare questo esercizio perché? perché ok lo fai un po' ma poi a cosa serve? cioè non serve a molto fatto in questo modo qua e soprattutto sì mi sembra di farlo preciso mi sembra di farlo tutto a posto ma come faccio a saperlo veramente? l'idea è quella di dire ok metronomo e ci sta metronomo che in questo caso posso tenere il mio charleston magari in quarti ti 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 e va bene ci può stare ma c'è un modo più divertente che ci fa passare il tempo più velocemente perché ci divertiamo e ci serve di più cioè quello anziché di usare il metronomo per i nostri esercizi di usare delle canzoni che non sono canzoni specifiche possiamo utilizzare le nostre canzoni preferite possiamo andare su Spotify e dirgli mettimi canzoni random e andare a fare il mio paradiddle su 5 canzoni diverse di generi diversi velocità diverse mood diversi in quel caso io andrò a suonare il mio paradiddle che magari è anche sempre lo stesso esercizio lo vado a suonare per 3-4 minuti per ogni canzone se lo vado a suonare su 4 canzoni allora ho suonato un quarto d'ora lo stesso paradiddle ma capendo veramente se ero a tempo se le ghost erano giuste ed erano belle insieme alla canzone e capisco la dinamica in base al brano capisco anche come andare come bisogna andare a suonare un brano magari un brano pop è da suonare più potente rispetto a un brano jazz magari un brano samba è diverso da suonare in un brano metal ma io il mio paradiddle lo posso fare in qualsiasi brano sarà da fare magari in modi diversi con dinamiche diverse eccetera ma quell'esercizio lo sto sviscerando tantissimo nel momento in cui l'ho fatto magari posso cambiare esercizio posso riprendere il mio paradiddle ma stavolta farlo a groove e riprendere delle altre canzoni quindi la cosa figa è proprio questa perché non andare a suonare Beak in Black con un groove in paradiddle non non è una cosa musicale questo lo so ma noi andiamo a suonare le cose che stiamo studiando su quello che ci serve alla fine la batteria si suona con la musica mica si suona da sola quindi andiamo a suonare i nostri esercizi e li facciamo diventare musicali per la musica poi non andremo mai a suonare Beak in Black così che potrebbe essere carino però adesso me lo stavo cantando in testa ma potrebbe anche essere carino però appunto questo ci serve per mettere la batteria all'interno della musica non solo suonando la canzone perfettamente come fa il batterista all'interno del disco di quel brano no inseriamo i nostri esercizi e suoniamo sulla musica pensate se aveste fatto i vostri esercizi dall'inizio sulla musica quante canzoni conoscereste in più e quante volte avreste suonato sulla musica regola numero 5 questa è una regola che avrete già sentito risentito e risentito ma è veramente fondamentale registratevi e ascoltatevi questa è veramente una cosa che può non sembrare può essere una cosa stupida tra virgolette ma non lo è il fatto di ascoltarvi serve di più rispetto al suonare un esercizio il fatto di suonare un groove registrare quel groove poi stoppare e riascoltarsi ecco la fase di ascolto serve molto di più della fase in cui avete registrato mentre stavate suonando lo strumento sembra una cosa impossibile perché dite cacchio non lo sto suonando il mio strumento come faccio a migliorare ancora di più perché migliora la vostra testa perché la testa sente le cose sbagliate cerca di capire come potrebbero essere migliorate eccetera e quando andate sullo strumento non vi dico che le migliorate subito però avete in testa già le cose che dovete a cui dovete fare attenzione le cose che dovete migliorare quindi in questo caso è una figata perché pensate di fare un'ora un esercizio ma quell'esercizio non vi accorgete lo state facendo con alcuni errorini ecco se lo fate per un'ora e va bene l'avete fatto per un'ora ma l'avete fatto per un'ora sempre con gli errorini se voi lo fate 5 minuti vi ascoltate dite ok c'è questo questo lo metto da posto altri 5 minuti vi ascoltate meglio ma c'è ancora questo lo metto da posto e lo fate lo fate lo fate per giorni e beh lì sarà tutta un'altra cosa avete suonato magari meno lo strumento ma avete migliorato la vostra testa e questa cosa della testa ci fa tantissimo soprattutto per quanto riguarda il timing alla batteria perché lì è tanto una questione mentale non è solo una questione tecnica ma in generale ci fa per tutto pensate al punto dopo se vi registrate mentre fate un esercizio su una canzone quindi registrate la canzone registrate voi che suonate su una canzone e avete subito chiaro se quell'esercizio sta tirando come si dice per quanto riguarda il groove a tiro su quella canzone lì per avere il tiro deve essere perfettamente a tempo deve avere la dinamica giusta deve avere la potenza giusta se non funziona vuol dire che non è che l'esercizio è sbagliato o la canzone ha qualche problema no vuol dire che non vi siete incollati bene con l'esercizio che state facendo rispetto alla canzone che state suonando quindi questa cosa di registrarvi ragazzi so che è un punto tra virgolette banale perché viene detto sempre ma è fondamentale queste sono le 5 regole che vi ho dato oggi per poter migliorare veramente la batteria per non perdere più tempo a fare cose che boh non sappiamo le faccio un po' così ma no sicuramente ci sono molte più di 5 regole ma queste secondo me erano 5 regole veramente fondamentali le altre 5 regole vorrei me le scriveste voi qui sotto nei commenti vi ricordo che qui sotto in descrizione avete il link che vi riporta al mio sito Castiudrums e che è ancora attiva l'offerta Back to School dove potete avere il 40% anzi no avete il 40% di sconto sul primo corso che acquistate inserendo il codice BEC40 quindi arrivate al checkout anzi scegliete il corso che volete arrivate al checkout inserite il codice e direttamente 40% di sconto così e quindi ricordatevi che attenzione questa offerta è attiva solamente ancora per pochi giorni detto questo ragazzi iscrivetevi al canale se vi va fatemi sapere nei commenti oltre alle altre regole che secondo voi sono di vitale importanza se vi è piaciuto questo video se vi piacerebbe vedere altri video di questo tipo perché oggi in realtà ho parlato tanto e suonato poco ma secondo me tante volte è importante parlare per spiegare alcune cosette ma mi piace il confronto con voi quindi mi raccomando scrivetemi che così almeno facciamo una bella discussione e capiamo se magari mi sono dimenticato qualcosa o se non ho pensato a delle regole che magari mi dite voi e potrebbero servirmi anzi ce ne saranno un sacco di regole che potrebbero servirmi a migliorare quindi con questo ragazzi grazie mille a tutti vi ricordo i link qui sotto per gli sconti e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti Grazie a tutti